ciao a tutti allora nel video precedente abbiamo visto come recuperare una maglia caduta nella maglia rasata sul dritto del lavoro visto che qualcuno sta facendo tra nel nostro laboratorio qualche lavoro a legaccio e comunque è importante poter recuperare le maglie anche in questo caso vediamo come funziona in realtà è un po più complicato però con pazienza ci si può applicare facendo dei campioni come sto facendo io e imparare a farlo prima di pasticciare sul lavoro definitivo quindi adesso non ho creato buchi ma vi farò vedere soltanto che mi cade una maglia e la recupero la prima volta così lo vedete in modo ordinato ok allora lavoro per un po buchi o errori può capitare di rendersi conto che a un certo punto la trama non è corretta e che c'è un grumo insomma qualcosa che non funziona allora a legaccio si lavora sempre sul dritto del lavoro quindi adesso vado un po al centro e facciamo finta di essere arrivati scusate mi succede sempre questa cosa quando faccio il video arriviamo un po al centro vi faccio vedere cosa succede quando lascio cadere delle maglie ok allora adesso mi distraggo sale legato sul tavolo non so insomma qualcuno prende mano il mio lavoro e tra patatrac mi ritrovo magari sono andata oltre e oddio mi ritrovo con questo pasticciolo intanto devo tornare indietro e l'abbiamo visto basta entrare sotto la maglia precedente e sfilare e ritorniamo da dove siamo venuti dopodiché qua ci troviamo con un pasticcetto vedete che abbiamo abbiamo la maglia caduta un po giù ok facciamo facciamola arrivare finché vediamo la maglina sull'esterno ok mi spiego meglio il legaccio è diverso dal dritto se guardiamo dall'alto ci accorgiamo che questi fili passanti non sono tutti allo stesso livello sono alcuni davanti e alcuni dietro proprio perché stiamo lavorando sempre a dritto allora se io per esempio lascio cadere un'altra maglia e vi faccio vedere cosa succede vedete che la maglina si nasconde praticamente è sul retro ok allora in questo caso sarei un po più scomoda quindi mi conviene farne cadere un'altra in modo da trovarmi con la maglina che mi interessa che guarda verso di me ok ricordatevi che sul telefono potete allargare con le dita il video e inquadrare molto nel dettaglio perché io cerco di farlo ma è molto difficile stare dentro l'inquadratura allora ci provo sperando di non fare guai allora questa è la maglina che sono riuscita a fermare prima che andasse oltre adesso sarebbe bello poter fare come sulla maglia rasata e recuperare le barrette tutte nello stesso modo però in realtà dobbiamo alternare i passaggi perché guardate allora la prossima barretta sarebbe questa qui ok se io la prendo così e faccio questa mossa in realtà sbaglio perché comincio a lavorare tutto a dritto come una maglia rasata allora cosa devo fare la lascio andare e torno indietro a dove ero prima nel caso in cui osservando bene vedete che la barretta sta sul davanti vedete che quella successiva è dietro spero che si veda allora quando la barretta è davanti effettivamente la devo mettere davanti all'occhiello e l'occhiello invece di prenderlo da davanti come facevamo prima devo andarlo a prendere da dietro quindi aspettate che riallargo così vedete la movimento della mano voi aprite l'inquadratura sul telefono qui invece di entrare in questo modo entro da dietro verso avanti ok e recupero la maglia facendola passare in questo modo qui ok adesso nel prossimo giro la barretta interessata è dietro quindi la prendo come abbiamo imparato nella maglia rasata da sotto e la faccio passare ora mi trovo di nuovo come prima questa barretta è davanti e devo lasciare la maglia mettere la barretta davanti alla maglina infilarmi da dietro e andava a recuperare attenzione aiutatevi con le dita ok sono di nuovo qui adesso ho un'ultima barretta da recuperare la prendo dal dietro la faccio salire un'altra volta e mi sa che qui ho sbagliato sì perché dovevo un'altra volta passare davanti aspettate scusatemi a perché c'è un'altra barretta dietro eccolo quale errore scusate lo stavo facendo anche per distrazione se guardiamo bene c'è un altro filo dietro ok quindi la mostra era giusta di prendere dal davanti scusate mi scappa tutto questo filo l'ho usato per diversi tutorial ed è un po rovinato ok allora devo andare però non a prendere questa che quella più alta ma quella che è un po dietro come nella maglia rasata ok scusate aspettate che sistemo di nuovo questa maglia perché c'è un po di pasticcio mi sembra che sia a posto quindi tiro su quella più alta che mi servirà dopo passo sotto la maglia che sta dietro e la faccio passare come quando recuperavamo le maglie della maglia rasata ok e adesso sì l'ultima siccome davanti lascio la devo passare davanti alla maglina ok prendere l'occhiellino dal dietro e andare a farle passare questa qui dentro passando da dietro allora adesso la passo un attimo su questo ferro poi in realtà va sull'altro e in questo modo se adesso io proseguo col mio lavoro fate che la maglia rovesciata ok ci sono dovrei aver sistemato tutto come sempre quando si fanno questi lavori la tensione si può sballare un pochino quindi magari al momento si vede leggermente il punto dove abbiamo corretto ma poi considerate anche che la lana cede si sistema molto meglio di questo filato che sto usando io vedete che qui si vede che è un pochino più molle ma poi tirando un pochino le varie maglie sopra e sotto il problema sparisce completamente ok quindi abbiamo recuperato le maglie con un sistema che ripeto è un pochino più articolato perché una volta la maglia va presa dal davanti e una volta va presa dal dietro ve lo faccio vedere un'ultima volta come sempre se vi accorgete anche più tardi che c'è il buco basta appunto andare a smagliare fino a dove vi serve adesso vado un po avanti perché qui c'era la correzione precedente e ricordiamoci appunto che sul legaccio le sbarrette i fili passanti in orizzontale si trovano uno dietro e uno davanti quindi dobbiamo osservare bene quella cosa lì adesso faccio cadere qualche punto ricordatevi di farne cadere qualcuno sarà caduto per sua spontanea volontà poi voi dovete far cadere i punti finché avete la possibilità di prendere la maglia sul davanti quindi se la maglia vi scappa verso dietro fate cadere un punto in più così cominciate più comodi infilatevi nell'occhiello che avete appena tirato ok l'uncinetto e attenzione a guardare dove si trovano le maglie allora quella superiore in realtà è una di quelle davanti quindi esco di nuovo perché devo far passare la sbarretta davanti ok andare a prendere l'occhiello da dietro e recuperare la maglia in questo modo la prossima dovrebbe essere dietro sono due ancora una è quella alta vedete tiro un po così si vede e una è nascosta dietro questa qui che è dietro posso prenderla da dietro quindi in questo modo e tiro fuori come quando correggevamo sulla maglia rasata per finire ne ho ancora una anteriore quindi lascio andare faccio passare la sbarretta davanti prendo la maglia dal dietro e con pazienza aiutandomi con le dita cerco di farla passare ok anche qui rimetto la maglia sul ferro e dovrei riuscire a terminare il mio lavoro con tutte le maglie a posto anche qui c'è un po di molle quindi dovrò andare a tirare prima e dopo per cercare di sistemare un pochino ma come vi dicevo la lana è molto più duttile e si sistema più facilmente dell'acrilico quindi con pazienza fate un po di esperimenti e vedrete che imparerete a salvarvi da tutti i problemi anche quando tutto diventa un po intricato voi lasciate cadere le maglie e imparate a recuperarle vedrete che vi passa la paura e vi passa il panico di fare degli errori perché per imparare a lavorare la maglia bisogna fare gli errori di proposito perché sbagliare l'unico modo di imparare bene e di saper gestire tutto quanto un saluto spero che anche questo video sia stato utile se vi è piaciuto mettete un like e se volete commentare fare delle proposte per dei video successivi le aspetto con molto piacere a presto ciao